Lo zio della principessa del Galles si sta attualmente preparando a dare una voce alla famiglia Middleton, pubblicando un libro di memorie. Gary Goldsmith, il fratello minore di Carol Middleton, si sta preparando a mettere le cose in chiaro in un libro di memorie. Il libro uscirà un anno dopo l'esplosiva docuserie Netflix del duca e della duchessa di Sussex, e il libro di memorie del principe Ferri, Spare. Il primo è stato rilasciato a dicembre 2022, e il secondo a gennaio. Lo zio materno della principessa Kate, vuole dare alla famiglia Middleton l'opportunità di avere voce in mezzo alle continue accuse, e alla faida contro il principe Ferri e Meghan Markle. Parlando a New, una fonte ha detto. Quando, il principe, Ferri stava originariamente compilando il suo libro. Il suo editore era sicuro che, il principe, William non avrebbe commentato. Perché non sarebbe stato appropriato per un futuro re farlo. Ferri non si sarebbe aspettato un simile ritorno da parte della famiglia di Kate. Parlando dei potenziali pensieri del duca e della duchessa di Sussex, la fonte ha aggiunto. A lui e Meghan non piacerà per niente, e temeranno l'uscita del libro. Questa non è la prima volta che Gary, 58 anni, esprime il desiderio di scrivere un libro di memorie. Dopo aver accumulato una fortuna multimilionaria attraverso la sua società di reclutamento IT, ha deciso di scrivere un libro di memorie nel 2013. All'epoca aveva sottolineato che non avrebbe messo in imbarazzo né la principessa Kate, né il principe William. Ora potrebbe aver cambiato idea. All'epoca aveva sottolineato della famiglia di cui ha aggiunto un libro di memorie nel corso di cui è un libro di memorie. Grazie a tutti.